Dicevo di nuovo buona buona serata a tutti, i tre interlocutori sono persone che conosco molto bene, con essi con Zangrillo e con Calabrese, abbiamo dei rapporti anche di amicizia, quindi vino e salute. Vino e salute, ma che meraviglia sentire parlare di vino e salute perché come accennava stamattina Riccardo Cotarella, molta molta gente non considera il vino compatibile con la salute, il che mi pare una grossa bestemmia. Prima di chiederlo a Giorgio Calabrese, che in tante occasioni anche in televisione ha detto che un po' di vino può far solo bene, lo chiederei ad una new entry autorevolissima in questo campo, cioè con Alberto Zangrillo. Allora, Alberto, il vino in modica quantità può perfino far bene? Il professor Zangrillo è incollegato? È in collegamento, ma non lo sentiamo. Provi a disattivare e riattivare l'audio. Eh, il professor... Ma chi? Non ho capito. Non sentite Zangrillo? Non lo sentiamo. Allora, vogliamo cominciare con Calabrese mentre voi riattivate Zangrillo? Forse è meglio. Forse è meglio. Allora, Giorgio, buonasera. Buonasera, direttore. Allora, ti prego di fare un discorso un po' più approfondito di quello che fai a Porta a Porta, dove... Certamente. Abbiamo poco tempo e soprattutto abbiamo una effervescenza di grande gradevolezza, perché in poche parole dobbiamo dire... Anche qua in poche parole, non ti allargare, perché anche qua dobbiamo andare subito al punto. Ora, perché il vino in modica quantità... Intanto stabiliamo qual è la modica quantità e poi spieghiamo perché in modica quantità fa bene alla salute. Esatto, perché il vino intanto non è una bevanda ma un alimento liquido. E questa è una delle condizioni che spesso, come noi, come scienziati, come medici, ci ha messo a volte in contrasto con qualcuno che è magari molto, come dire, negazionista. Noi abbiamo bisogno di percepire che il buon bicchier di vino ai pasti, possiamo arrivare a due bicchieri sicuramente, partendo dal concetto, come io ho sempre detto da 40 anni, si beve l'acqua, si gusta il vino. Quindi noi quando abbiamo sete ci idratiamo con l'acqua, ma quando noi ci nutriamo e accompagniamo il cibo con il vino, allora noi sappiamo che dobbiamo accompagnarlo e non bere interi litri di vino, perché è molto importante che il vino entri come ogni alimento, come la pasta, come la carne, come le verdure, in una giusta quantità. Due bicchieri di vino negli uomini, un bicchiere di vino nella donna e spiego anche il perché. Intanto, devo dire una cosa, noi siamo un gruppo di scienziati internazionali diretti dal professor Carl Sellison della Boston University, dove io ho insegnato per tanti anni come visiting professor, e abbiamo fatto un gruppo che parte dai francesi, dagli spagnoli, dagli argentini, dai cileni e quant'altro, e dagli americani. E abbiamo visto che cosa? Che sempre più all'interno del vino e anche dell'uva da cui si fa il vino, ci sono delle sostanze di grande importanza che non sono soltanto per la migliore digestione o solo per l'appagamento del palato, che sono già due motivi molto importanti per una persona. Uno che digerisce meglio e uno che bevendo un bicchier di vino sta meglio psicologicamente, è già una bella cosa, mi immagino soprattutto in periodi come questi in cui siamo tutti un po' terrorizzati. Ma noi abbiamo studiato profondamente, negli ultimi, diciamo io ho iniziato con Carl Sellison nell'87, ecco da allora abbiamo fatto questo studio e parlando di polifenoli, ci siamo resi conto di una cosa, che il polifenolo è un insieme di sostanze presente naturalmente nell'uva, in special modo, ma non solo, nella buccia e questi polifenoli hanno la capacità di giocare contro quelle sostanze che noi chiamiamo radicali liberi. Cosa sono queste sostanze? Sono sostanze che hanno un ottetto finale dispari e che cercano di mordere e di creare problemi alle altre cellule per accaparrarsi qualcosa. Noi riusciamo con gli antiossidanti a fare proprio questo lavoro e quindi i polifenoli sono i primi a difenderci da questi radicali liberi che nascono dal fumo, dall'eccesso di stress, dall'eccesso di cibo, dall'ansia, dalla negatività della vita. Per cui, attenzione, il buon bicchier di vino non è un qualcosa soltanto che appaga il palazzo, ma in questa fase noi abbiamo capito che con i polifenoli siamo in grado di poter definire una nuova classe di sostanze che difendono le nostre cellule, le pareti delle nostre cellule, ma anche il DNA delle nostre cellule, per poter avere una vita non soltanto più lunga, ma una vita di qualità. E questo è, secondo me, molto importante da dire al consumatore e devo dire che in questo caso, a volte vorrei parlare anche all'astemio, che spesso è per istinto o per genetica, l'astemio può essere astemio, ma non sia contento di esserlo, sia cosciente di perdere qualcosa che serve alla qualità della vita. Guarda, da questo punto di vista io quando incontro un astemio dico come possiamo curarla? Non è una malattia, è uno status. Direi che si fa come i bambini, si svezza. Infatti io dico, in genere vedo che qualcuno può essere curato con una piccola flebo di bollicine per cominciare e poi lentamente si va avanti. Io non vedo più nessuno, però sento tutto benissimo, non so se voi mi vedete. Sì, sì, io ti vedo benissimo direttamente. Ah, perfetto, allora va bene. Allora, Alberto Zandrillo, è in collegamento? Mi sentite adesso? Buonasera, ciao Bruno, buonasera. Io ti avevo presentato, introdotto come una new entry in questo mondo del vino, però ho visto con piacere dalle cose che dici in questo campo, che anche tu sei favorevole ad un uso estremamente equilibrato naturalmente, ma ad un uso del vino il quale può far perfino bene, o sbaglio? Certamente, allora per quanto riguarda, diciamo, la posologia si è già espresso in modo brillante, sicuramente molto più competente di me il professor Giorgio Calabrese. Io sono sempre alla ricerca nel mio mestiere, nella mia pratica clinica quotidiana, di andare a cercare di scoprire documentandomi quali possono essere appunto gli argomenti che in qualche modo ci possono venire incontro per vivere, come ha detto prima Giorgio, in maniera migliore e più a lungo. Allora, vorrei dare qualche dato. Oggi un bambino americano che nasce ha un'aspettativa di vita di 78 anni. Un bambino italiano molto probabilmente è qualcosa di più. Tutti gli studi abbastanza recenti hanno focalizzato la loro attenzione, diciamo negli ultimi 30 anni, sul codice genetico e sul DNA. Adesso invece sta iniziando prepotentemente a inserirsi un nuovo concetto, che è quello non di condizionare il codice genetico, ma in qualche modo di proteggerlo, attraverso una realtà molto più ampia e in qualche modo ancora tutta da studiare, che è l'epigenetica. L'epigenetica fondamentalmente è qualcosa che è determinata da noi, è determinata da come viviamo, da come ci comportiamo, da dove viviamo e da anche come interagiamo con la natura. Vedevo in questi giorni proprio quelle che sono le categorie a maggior contenuto di polifenoli che abbiamo appena sentito introdurre. Bene, sono fondamentalmente tutte contenute prevalentemente nel mondo vegetale. È come se il buon Dio avesse messo a nostra disposizione tutti gli ingredienti necessari per vivere meglio. In qualche modo noi nel corso degli anni ce ne stiamo scordando, ce li siamo scordati. Quindi è veramente importante andare a comprendere che questa categoria di molecole che possiamo definire prevalentemente vegetali, che sono in parte anche sintetiche, quindi sicuramente ci si studierà in futuro, sono molto importanti perché in qualche modo proteggono le nostre cellule da quelle che possono essere le disregolazioni del codice genetico che portano appunto a alterare poi tutte quelle che sono le caratteristiche della cellula nella sua replicazione, nella mitosi e in tutto quello che noi conosciamo abbastanza bene e poi anche in tutte quelle degenerazioni della cellula che possono accadere quando la cellula appunto invecchia, quando in qualche modo la cellula deve replicarsi. Bene, allora, queste sostanze, i polifenoli antiossidanti, sono degli elementi protettivi. Ora, dire che sono contenuti nel vino è giusto. È riduttivo, evidentemente, cercare di fare un'equazione che dice assunzione di vino e quindi in qualche modo automatico beneficio. Però, come è stato appena detto, sicuramente il vino, ma i componenti iniziali da cui io qui alzo bandiera bianca se mi esprimo in termini non particolarmente tecnici, comunque immagino le uve come vengono trattate, il mosto, soprattutto nel vino rosso, hanno, e questi sono studi ormai datati, hanno questi componenti che appunto sono diventati di grande, grandissimo interesse, in particolar modo appunto il resveratrolo, che è il polifenolo per eccellenza e che ha queste caratteristiche fondamentali. Allora, sentiamo, grazie ad Alberto D'Angrillo, sentiamo adesso un cardiologo importante come il professor Montemurro. I rapporti tra il vino e il cuore. Bene, buonasera dottor Vespa e approfitto per ringraziare l'amico Cotarella perché mi ha voluto partecipare di questa tavola rotonda e l'amico Giorgio Calabresi e Alberto Zangrillo, che vedo con piacere. Perché il vino ha un'azione cardioprotettiva? Del resto ormai la letteratura è piena di studi e di lavori che dimostrano che modiche quantità di alcol, e soprattutto a di vino, hanno un'azione cardioprotettiva. Poc'anzi Giorgio Calabrese ha sottolineato il ruolo antiossidante dei polifenoli presenti nel vino, i quali svolgono un'azione proprio di scavenger e quindi di neutralizzazione di quei radicali liberi che ossidano il colesterolo LDL. Noi sappiamo che la malattia trasclerotica e quindi tutte le manifestazioni cliniche ad essa correlati come la morte improvvisa, le sindrome coronariche acute, l'ictus cerebrale, passano attraverso la formazione di placca dello sclerotico a carico del circolo coronarico e anche a carico delle carotide di vasi in generale. Bene, la placca si forma perché il colesterolo LDL, quello che noi chiamiamo cattivo, va in contraossidazione e viene captato dai macrofagi, dai monociti macrofagi e quindi si forma questo cosiddetto non-self, viene riconosciuto come estraneo, non viene più metabolizzato, clirato attraverso i recettori delle LDL presenti nel fegato che hanno insegnito due grandi della medicina, premi Nobel proprio per l'importanza che rivestono i recettori per le LDL come Michael Brown e Jeff Goldstein. Questi due grandi scienziati dimostrarono che il colesterolo cattivo, che è una qualche cosa, come diciamo l'umido che noi eliminiamo durante la giornata, deve essere eliminato attraverso questi recettori. Ebbene, la capacità che hanno i polifenoli presenti nella fattispecie, non solo nel vino ma anche nel mondo vegetale, di neutralizzare questi radicali liberi. Ma a dirlo di più, l'amico Alberto Zangrillo ha sottolineato il ruolo di un particolare polifenolo, di uno stilbene che è presente nel vino, che è il resveratrolo. Il resveratrolo oltre a un'azione antiossidante in termini di anti-scavenger, ha un'azione anche antiossidante perché è in grado di attivare i fattori di trascrizione nucleare come l'NRF2, in grado di attivare i sistemi endogeni antiossidanti. In effetti noi abbiamo una capacità del nostro organismo di svolgere un'azione anti-radicale libera e antiossidante e questa capacità ci viene da ciò che noi introduciamo e tutti i polifenoli, non solo del vino ma nei vegetali, nella frutta, nel cibo che giornalmente noi introduciamo. Dovremmo raggiungere una certa quantità, circa 5.000 radon. Però il nostro organismo non funziona al massimo. In alcune situazioni questi polifenoli possono stimolare la capacità e quindi portarlo a un sistema massimale di reazione il nostro organismo. Ma al di là di questo svolgono anche un'azione anti-infiammatoria, oltre che antiossidante, che è molto importante, soprattutto in questi contesti clinici che noi stiamo vivendo, ad esempio l'infezione delle vie aeree da Covid, abbiamo sentito come lo shock citochinico è stato, diciamo, l'aspetto patogenetico che ha condizionato l'evoluzione clinica fino alla morte i pazienti affetti da Covid-19, perché si innescono meccanismi che passano attraverso l'attivazione dell'inflammosoma e la produzione di alcune citochine come l'interleuchina 6 che attiva a livello epatico la produzione di fibrinogeno e quindi il fibrinogeno attiva i processi emocoagulativi che poi esitano in quelle trombosi venose profonde, multime con embolia polmonare, l'exodus finale, per esempio, in questi casi. Per cui oggi il vino ha un'azione cardioprotettiva, in particolare lo abbiamo detto, però già gli studi clinici di Graziano di 20 anni fa dimostravano che vi è una riduzione del 20% della mortalità totale e della mortalità cardiovascola. Gli studi di ordine epidemiologica hanno dimostrato che la introduzione di modi che giustamente quantità di vino 30, massimo 40 grammi di alcol al giorno, non oltre, la donna giustamente deve assumere un po' meno perché da un punto di vista del corredo enzimatico sono meno espressi alcuni enzimi come la cetaldeide e l'edrogenasi e tutto questo sicuramente si inserisce in un percorso di cardioprotezione. Traduciamo, professore, che cosa vuol dire dentro un bicchiere 30-40 grammi? Bene, 30-40 grammi. Noi conosciamo che nella comunità scientifica internazionale viene oggi assimilato la quantità al drink. Cos'è il drink? Il drink è una bevanda alcolica di 125 millilitri. Allora, per calcolare i grammi di alcol contenuti in quella, quei millilitri, bisogna conoscere in primissi la gradazione alcolica. Ad esempio, un vino che è 12 volumi di alcol significa che in un litro non è che ce ne sono 120 grammi di alcol, perché il coefficiente è 0,79, arrotondiamo 80, per cui ci saranno in un litro 96 grammi di alcol. Se un soggetto può assumere 30, massimo 40 grammi, perché il nostro è in grado di metabolizzare nell'intera giornata i 30 grammi di alcol, noi dovremmo assumere grossomodo un po' meno di mezzo litro, perché se è mezzo litro 96 diviso 2 sono 4 e qualche cosa e quindi sono 40 grammi, quindi qualcosa in meno, un quartino di vino al giorno sicuramente rientra in un'abitudine salutistica e che può sicuramente trovare legittimazione in un'alimentazione di tipo mediterraneo e quindi di prevenzione delle malattie cardiovascolari. Bene, mi fa molto, 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 molto piacere. Insomma, lei è più generoso del mio amico Giorgio Calabrese il quale dice no, bisogna bere, ma insomma non più di meno. Non è la stessa cosa, direttore? È la stessa quantità? No, tu sei un po' più tirchio. Ah! No, sei un po' più tirchio. Un po' più tirchio. Perché il professore ha detto, poi ha ridotto ad un quarto, però era partito da quasi mezzo litro. facciamo una via di petto su 12 gradi. Se il vino naturalmente ha una gradazione alcolica superiore, ma insomma, dai, va bene, va bene così, va bene così, va bene così. Mi pare che vada bene. Allora, facciamo un secondo intervento di prospettiva. I giovani, allora, da un lato c'è un consumo giovanile di vino, però i giovani si vanno orientando verso altre, un altro tipo di superalcolici, oppure le bevande gassate, oppure la birra. Vorrei chiedervi queste tre tipologie, se sono migliori del vino o se sono peggiori. Giorgio? Beh, intanto devo dire una cosa, che è molto importante differenziare il vino alimento dal superalcolico, che è qualcosa di extra, che va a chiudere un pranzo, che va a far diventare festa un momento particolare di un'alimentazione anch'essa particolare. Io non sono per i superalcolici, per carità, un grappino ogni tanto, Pasqua, Natale, il compleanno, va bene, io sono per il bicchier di vino, il bicchier di vino nei giovani deve essere però introdotto, l'ho sempre detto, lo ribadirò sempre, quando il fegato è in grado di poter essere maturo per poter bere dai 17-18 anni in su per i prossimi 100 anni un buon bicchier di vino ai pasti senza avere problemi. Per cui ai giovani dobbiamo insegnare, dobbiamo educarli a capire che il vino non si beve ma si gusta. Allora, noi stiamo facendo un lavoro in questi ultimi tempi su delle proteine particolari che sono le sirtuine. Perché? Perché, come diceva prima l'ottimo Montemurro e come aveva accennato molto bene anche Alberto Zangrillo, i meccanismi che ci portano a far bere una bevanda che sia di tipo alcolica devono essere meccanismi pro salute non meccanismi pro gusto perché se fosse solo pro gusto potrebbero anche creare dei problemi. La spiegazione scientifica è stata già sottolineata molto dai miei predecessori colleghi che sono stati molto puntuali e oggi noi stiamo lavorando sulle sirtuine. Sa perché, direttore? Perché molti giovani, soprattutto le giovani, vogliono dimagrire. Per dimagrire spesso pensano che bere il bicchier di vino faccia ingrassare. Bene, diamo subito una notizia. Abbiamo visto che le sirtuine che sono delle proteine particolari sono sette tipi. C'è la sirtuina 1 che è sposata con il resveratrolo quindi molto bene il discorso sia di Zangrillo che di Montemuro. Cioè, questo matrimonio funziona anche perché le sirtuine cosa fanno? Appena vedono un DNA che si sta alterando perché c'è qualcosa dall'esterno loro come i carabinieri corrono per recuperare questa cosa che si sta alterando e si è visto che agisce sul metabolismo dei grassi che protegge il fegato e quindi automaticamente se noi sappiamo bere la giusta quantità di vino ma sappiamo associare una dieta che sia ricca di questi polifenoli ma di questi stilbenici quindi come il resveratrolo ma che abbia anche una giusta quantità di sirtuine che permettano al nostro organismo di bruciare i grassi di riserva che sono quelli che ci portiamo quando abbiamo i chiletti in più e contemporaneamente bloccare la resistenza insulinemica considerando che l'insulina è un ormone che brucia gli zuccheri ma anche i grassi e che è di natura lipogena cioè da solo messa a digiuno se noi abbiamo una resistenza insulinemica alta due più due non fa quattro a digiuno fa subito otto quindi si altera allora il bere il bicchier di vino specialmente rosso perché le sirtuine si trovano soprattutto nel rosso si ha la possibilità di agire nella azione di delipidizzazione di sgrassamento del fegato e che quindi comportiamo avanti nel futuro assieme a un'altra sostanza che è il flavantreolo che è un flavonolo una capacità di annettere al nostro organismo pochi grassi sfruttare di più le fibre dei vegetali come diceva Alberto prima e sottolineare come diceva Enzo dopo il giochino di non far creare le cell phone queste cellule che poi creano le placche e quant'altro e queste due sostanze sono all'ordine del nostro studio da un punto di vista nutrizional dietetico ma clinico per poter dare la possibilità un po' di dimagrire ma soprattutto di sgrassarsi e soprattutto di mettere in condizione il fegato di non accumulare troppe sostanze che poi deve smaltire quindi io sono profondamente convinto che le bevande troppo zuccherate e le bevande che sono anche la birra se la birra è bevuta come il vino è un'alternativa in certi momenti ma se la birra è bevuta al posto dell'acqua perché i nostri giovani e soprattutto anche molto giovani purtroppo la bevono come alternativa all'acqua è un grande errore perché nessuno di questi ragazzi si mette a bere a 13 anni un bicchiere di rosso ma si mettono a bere spesso 3-4 birra perché si sentono grandi adulti maci e questo non va bene ho visto anche le ragazze che stanno facendo questo errore per cui ritorniamo al buon bicchier di vino alimento liquido che non solo permette di avere una storia ma permette di avere un futuro anche laddove noi non pensavamo cioè sia nel dimagrimento sia nello sgrassamento del feto scusami Giorgio un flash mi prendo sempre in giro quando io dico citandoti che un bicchiere di vino è 70 calorie sostanzialmente tu dici quanto una mela e mi dico boh non è possibile c'è sbaglio di grosso no no è possibile lui no assolutamente perché certamente se il bicchiere di vino è un calicione grosso e di un vino di 15 gradi è un altro parliamo dei vini dei vini che con Riccardo insomma Riccardo è un maestro mondiale e ci ha sempre educato a questo senso del vino che deve essere armonico che quando mangi ogni giorno non hai bisogno di prendere il vino da 15 gradi quel 12 gradi 12 gradi e mezzo di cui parlavamo è quello che ci permette ci sono delle luminose eccezioni come il primitivo e per carità insomma questo l'ho visto anche in America è un grande vitigno autottono di grandissimo valore così va meglio allora Alberto Zangrillo la tua opinione su questo rapporto tra non è proprio la tua specialità ma insomma su vino bevande gassate birra dal punto di vista salutistico e se mi consenti Bruno io allargherei proprio per difendermi il discorso contestualizzandolo ai tempi grigi che stiamo vivendo faccio un richiamo quindi a quella che è veramente la malattia del secolo e che sta può diventare la malattia di questi giorni che è la depressione l'ansia e la depressione il 6% sottostimato dalla popolazione mondiale è affetto da depressione probabilmente gli studi ultimi non sono recentissimi questo 6% è vicino al 10% ma quello che è interessante purtroppo è che questa fenomenologia questa patologia è collegata molte volte all'addiction e anche all'abuso di alcol e quindi questo va un po' non in controtendenza con quello che stavate dicendo cioè la necessità soprattutto di questi tempi di esercitare un vero e proprio piano progettuale educativo perché io sto assistendo proprio anche semplicemente osservando quello che ci circonda che quello che era quello che era il segno proprio anche dell'emancipazione sociale particolarmente femminile nelle ultime decadi il fumo si sta appunto sta per essere sostituito dall'alcol però dall'alcol non quello buono non quello fisiologico non quello che potrebbe appunto in qualche modo mitigare anche la ansia e la depressione quello che sinceramente manca di più a me e faccio una piccola confessione quando in queste lunghe giornate grigie buie che non finiscono mai in qualche modo obbligate dal lockdown a raggiungere la macchina quando ormai è buio l'estate magari lo si sentiva meno e raggiungere casa è proprio quel piccolo premio che ti dai socializzando e quindi stando con gli amici stando in famiglia e appunto facendoti accompagnare da un buon bicchiere di vino e io quindi veramente credo che noi siamo di fronte a un momento molto grave molto grave perché ci sono tutti gli ingredienti perché ci possa essere veramente se non siamo in grado di dare delle parole giuste proprio anche su dati scientifici se non siamo attenti a stare insieme ai nostri ragazzi ai nostri giovani li perdiamo si è tanto enfatizzata la movida no? e la movida si è vista come il fenomeno negativo perché appunto favorisce l'assembramento in realtà la movida è quasi diventato un vizio come la pericena che è proprio la cosa peggiore io credo che il Mario sia d'accordo con me lui è un nutrizionista no? perché appunto facendo la cosiddetta pericena tu bevi male e mangi male e mangi peggio e quindi dobbiamo veramente resettare tutto il nostro modo di vivere e questa è l'occasione perché altrimenti finiamo male e io credo che il vino che è di lunga tradizione millenaria sia proprio l'elemento forse cardine del nostro ragionamento perché noi proponiamo quello che se non conosciuto se non studiato se non amato mi verrebbe da dire viene visto come qualcosa di negativo e invece è proprio il principio di un discorso progettuale che porta i giovani a saper mangiare correttamente vivere correttamente bere correttamente proprio perché conoscono quelle che sono le caratteristiche principali del nostro modus vivendi che abbiamo visto essere la base probabilmente della futura scienza epigenetica che ci consentirà di vivere più a lungo e meglio grazie Alberto Zangrillo per questo intervento illuminante io ho ragione purtroppo il male del secolo e la depressione e quando sono andato quando sono andato nel nord nei comuni più colpiti dalla prima ondata del virus ho visto che tante famiglie e famiglie tutti li hanno perso qualcuno insomma ma sono un'infinità superiori ad ogni immaginazione le famiglie che sono tuttora sotto cura da parte sotto cura psicologica se non addirittura psichiatrica in certi casi ma psicologica certamente da parte delle strutture in Lombardia dove sono andato io le strutture per fortuna funzionano ma devo dire che il colpo è stato totalmente grosso che la depressione e però non è soltanto quella depressione Zangrillo parla di una depressione esistenziale e quindi quella depressione da un lato non bisogna abusare di alcol perché l'alcol può essere poi un veicolo pericoloso per aggravarla ma al tempo stesso come dice lui quando tu torni a casa e prendi un buon bicchiere di vino quello invece è un antidepressivo perché ti aiuta a ritornare nella tua normalità nella tua socialità familiare o con gli amici e quindi maneggiare con cura ma maneggiare bene in conclusione il professor Montemurro del punto di vista cardiaco del vino abbiamo parlato super alcolici birra bevande gasate allora in effetti per quanto riguarda anche le quantità di birra noi sappiamo che è una birra a quattro gradi oggi vengono utilizzate più quelle birre artigianali che hanno una gradazione alcolica superiore anche quattro gradi se una birra è 330 millilitri il volume di una bottiglia di birra si può tranquillamente bere perché ci sono dati scientifici che anche a queste dosi può avere un effetto cardiopredettivo per quanto riguarda i superalcolici non bisogna superare certe quantità si consiglia non andare oltre i 40 millilitri 40 per 40 per 0,79 80 diviso 100 ti dà grossomodo circa 12 grammi di alcol è chiaro che non bisogna un po' mescolare birra vino e superalcolici perché altrimenti non ci siamo più con le quantità quindi le modiche quantità sia per la birra anche il superalcolico possono essere introdotte ma a queste dosse è chiaro che il vino ha qualcosa in più rispetto alla birra rispetto al superalcolico ha i polifenoli di cui abbiamo parlato abbiamo parlato sia del resveratrolo ma adesso ci sono dati molto interessanti sulla quercetina la quercetina un alcuno qualcuni ricercatori del CNR assieme ad altri ricercatori di Saragozza e di Madrid hanno messo in evidenza la capacità proprio per rimanere con i piedi in questa epoca che stiamo vivendo si è dimostrata in grado di inibire una proteassi del covid-19 di questo virus è proprio che è una proteassi la 3CL pro e che è fondamentale ma non solo ma anche la capacità di ridurre l'espressione di quel famoso recettore di cui si sta parlando la C2 attraverso cui il covid-19 tramite la proteina spike entra all'interno delle cellule del nostro organismo per cui ecco queste azioni che sono presenti nel vino perché ricco in polifenoli non sono presenti né nella birra né nei superalcolici fermo restando che basse quantità anche di alcol non creano problemi e quindi vanno anche in una linea ecco di cardioprotezione se assunte in quelle dosi il vino ha qualcosa in più un plus valore per la presenza di questi antiossidanti e questi polifenoli Allora grazie a Professor Montemurro grazie a Alberto Zangrillo e a Giorgio Calabrese e non so se Riccardo Cotarella vuole aggiungere qualcosa prima di restituire la linea alla nostra conduttrice Eccomi Allora chiedevo se volevi aggiungere qualcosa a questo dibattito Sì non ho il video ma è uguale ti senti Bruno? Sì sì ti sento ti vediamo pure Riccardo Ah bene beh che meraviglia che meraviglia se voi pensate che noi siamo stati noi enologi denunciati no denunciati sì anche denunciati abbiamo già hanno chiesto diciamo l'istituto della concorrenza delle motivazioni a quali studi eravamo ricorsi per fare un'affermazione che al cospetto di quello che oggi hanno raccontato tre scienziati era veramente all'acqua di rosa noi abbiamo detto scritto che una moderata dose di vino potrebbe quindi condizionale igienizzare il cavorale non vi dico questi quante cialtronate ci sono d'incontro e noi abbiamo dovuto approfondire proprio come il nostro costume con la scienza quelle che sono la realtà dei fatti vuol dire rapporto vino e salute ora non perché diciamo tra i tre relatori ho due amici fraterni professor professor zangrillo avrò modo di conoscere per le mie frequenti visite di controllo per fortuna al San Raffaele ma devo dire che hanno fatto una disquisizione veramente chiara a tutti e ne faremo senza suonare le campane sicuramente lezione anche nella nostra divulgazione la nostra comunicazione ma dire con la dose moderata di vino sicuramente non porta danno all'organismo anzi potrebbe anche favorirlo io vorrei ringraziare tutti e tre i nostri relatori veramente graditissima relazioni interventi a te Bruno cosa posso dire non ho parole per il tuo supporto l'apporto che dai a noi enologi ci dai la tua professionalità la tua preparazione un mio collega mi ha scritto un messaggio che sarebbe dei nostri congressi senza Bruno io credo che finché ci siamo sarà con noi quindi grazie di cuore grazie ai tre esseri grazie a tutti grazie Giorgio grazie a tutti ciao Riccardo ciao Bruno arrivederci ciao Giorgio ciao a tutti ciao ciao grazie mille grazie mille a Bruno Vespa a Riccardo Cottarella e a tutti i nostri ospiti per questa chiusura decisamente ricca in spunti di riflessione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti